Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con il processo sul caso Coingas. Oggi la requisitoria del PM Roberto Rossi che ha chiesto le condanne per il sindaco Alessandro Ginelli, per l'ex presidente di Estra Francesco Macri e altri cinque in quattro invece andranno verso l'assoluzione. Questa appunto la lunga requisitoria del PM Rossi, ultimo intervento quello suo al tribunale di Arezzo prima del trasferimento ad Ancona. È stato il giorno dell'accusa alla processo Coingas, il procuratore capo Roberto Rossi al termine di una lunga requisitoria ha chiesto la condanna di Ginelli, Macri ed altri cinque imputati. Alla base dell'inchiesta le ormai famose consulenze d'oro, quelle affidate dalla partecipata all'avvocato fiorentino Pierettore Olivetti Rason e al commercialista retino Marco Cocci, quasi mezzo milione di euro per incarichi secondo la procura inutili. Pesanti le richieste di condanna senza il riconoscimento delle attenuanti generiche. Sei anni di reclusione la richiesta per l'ex presidente di Estra Francesco Macri, quattro anni e sei mesi per peculato e un anno e mezzo per abuso d'ufficio in merito alla sua nomine in Estra, secondo l'accusa in violazione della legge Severino. Per l'avvocato fiorentino Rason e il commercialista Cocci, il PM, ha chiesto rispettivamente quattro anni e sei mesi e quattro anni, per entrambi l'accusa è quella di peculato. Chiesta poi una condanna a due anni e due mesi per il sindaco Alessandro Ginelli, dei quali un anno e mezzo per abuso d'ufficio, stessa richiesta anche per l'assessore Alberto Merelli e otto per favoreggiamento reale. Un'eventuale condanna lo porterebbe alla sospensione alla luce della legge Severino, il primo cittadino ha preferito non commentare. Colpo di scena invece nella vicenda a molti servizi. Il reato che era stato derubricato a traffico di influenze è stato riformulato dal procuratore in corruzione per Bardelli e istigazione alla corruzione per Amendola. Due anni e sei mesi le richieste di condanna. Cadute invece le accuse per la contabile Mara Cacioli, per l'avvocato Stefano Pasquini, per l'attuale presidente di Coingas a Franco Scortecce e per Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa. La requisitoria del pubblico ministero è stata molto precisa, puntuale, richiamando le risultanze probatorie raccolte durante il dibattimento. Come parti civili ovviamente seguiremo tale richiesta. La sentenza è attesa per il prossimo 3 febbraio. Domani sono previste le arringhe degli avvocati difensori e poi insomma come avete sentito nel servizio ci sarà la sentenza quindi anche domani torneremo sul caso Coingas. E adesso la cronaca. Un uomo di 48 anni residente a Terra Nuova Bracciolini è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza. Nella sua abitazione sono stati ritrovati quasi due chili di droga. Oltre a denaro contante per circa 9 mila euro che secondo appunto i finanzieri sono chiaro, provento a dispaccio. L'operazione è stata portata a termine dopo un periodo di attività investigativa che si è sviluppata in tutto il Valdarno Aretino. Grazie agli accertamenti i finanzieri sono appunto risaliti all'identità del 48enne e poi alla sua residenza. E un 29enne invece è finito anch'esso in manette sempre per detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. Aveva nascosto la droga come se fossero dei bitcoin. Poi nella sua abitazione è stato ritrovato un vero e proprio arsenale. È stato fermato durante un normale controllo lungo l'autostrada del Sole ma è stato tradito oltre che da un certo nervosismo anche dal forte odore di hashish che proveniva dall'auto. È stato così arrestato dalla squadra mobile della Questura e dalla sottosezione di Battifolle un italiano di 29 anni colto in flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Dopo il controllo all'altezza della stazione di servizio Lucignano Est è infatti scattata la perquisizione dell'auto dalla quale sono saltate fuori con il singolare stemma del bitcoin 20 dozi di hashish pronte per essere cedute per un totale di oltre 200 grammi. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione dell'uomo. Qui i uomini della squadra mobile hanno trovato una coltivazione artigianale di sostanze stupefacenti, una serra con all'interno sepiante di mariguana ed oltre 100 grammi di stupefacente essiccato oltre che numerosi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. In una stanza utilizzata solamente dal 29enne è stata trovata anche una pistola e tre fucili, risultati essere provento di un furto in un'abitazione a Pergine Valdarno nel 2019 e numerose cartucce. Tutto è stato sequestrato in attesa di accertamenti, mentre il 29enne è stato trasferito nel carcere di Arezzo in attesa della convalida del provvedimento restrittivo. È stato anche denunciato per ricettazione. Non si sono fermati all'alta dei carabinieri, ma sono stati poi rintracciati e denunciati dopo un rocambolesco inseguimento due dei tre occupanti dell'auto. È successo tutto a Cortona. Sono stati bloccati proprio dai carabinieri, mentre il terzo è riuscito a far perdere le sue tracce. I due soggetti identificati sono un 35enne e un 36enne di origini nordafricane con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio all'interno dell'auto. Sono stati ritrovati due borzoni contenenti svariati attrezzi atti allo scasso, un piede di porco, due pinze, un pappagallo e altri attrezzi appunto per introdursi all'interno delle abitazioni. Inoltre il 35enne aveva indosso una dosi di eroina e una di cocaina. Come dicevamo, i due sono stati denunciati. Torniamo sull'allarme lupi. Noi abbiamo raccolto in settimana l'SOS di questo comitato che si è formato nella zona di Rigutino, ma gli avvistamenti sono stati molteplici e anche i casi di pecore appunto uccise dai lupi. Di questo ne abbiamo parlato con il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, alla quale sono giunte proprio formalmente due segnalazioni, una dal comune di Foiano e l'altra dal comune di Arezzo. Ecco prefetto, lei ha ricevuto da questo comitato una richiesta di aiuto, un SOS, insomma. Come si sta muovendo? Sì, ci sono state due segnalazioni sulla presenza di lupi sul territorio e quindi noi ci siamo immediatamente attivati con i carabinieri forestali per il monitoraggio del territorio, per avere una situazione aggiornata e per capire appunto quanto la presenza di lupi sia invasiva e preoccupante. Ma c'è modo di poter intervenire perché ovviamente sappiamo benissimo che sono animali protetti, sappiamo anche un po' il ciclo della natura, come funziona, quindi l'intervento è complicato. Beh, vanno contemperati tutti chiaramente gli aspetti e ovviamente nel momento in cui la presenza diventa un pericolo per la pubblica incolumità è chiaro che il discorso cambia. Non c'è bisogno ovviamente che si verifichino degli episodi diciamo di aggressione nei confronti delle persone per arrivare a prendere poi delle decisioni e delle determinazioni. Intanto bisogna capire l'importanza e la reale portata del fenomeno. Ecco, queste segnalazioni sono state fatte due, ci ha detto due episodi? Sì, sono arrivati le segnalazioni da due comuni del territorio di presenza di lupi perché è stato ritrovato appunto qualche animale aggredito. 34 incendi sia in Casentino che in ambito provinciale e regionale per oltre 1500 ore di spegnimento. Questi numeri del servizio anti incendi boschivi del Casentino, della comunità montana in particolare, nel 2022 il nostro servizio è attivo tutto l'anno, dice il presidente, responsabile del servizio Carlo Toni, ma con modalità operative diverse a seconda del periodo. la struttura operativa si avvale di 32 operatori, 6 guardie forestali e 5 direttori delle operazioni di spegnimento. Un servizio di eccellenza, ha commentato la presidente dell'ente, Eleonora Ducci, dell'Unione Montana dei Comuni del Casentino. Vorrei ringraziare e complimentarmi con il personale antincendio proprio per la professionalità e la competenza appunto dimostrata. Risolvere le esigenze per quello che riguarda il commissariato della Polizia di Stato di Sansepolcro che ormai si trascinano da anni senza soluzione. Questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto nella sede del Ministero degli Interni con la presenza del sindaco Fabrizio Innocenti e l'assessore Alessandro Lirivi alla presenza del sottosegretario Nicola Molteni. La nostra amministrazione spiega il sindaco, ha avviato da tempo un percorso assieme alla Prefettura e all'Agenzia del Demanio che abbiamo esposto al sottosegretario. Abbiamo messo sul piatto l'eventuale possibilità di realizzare un immobile demaniale che sia preceduto dall'acquisizione della disponibilità di un terreno di proprietà comunale in una zona idonea da un punto di vista logistico e funzionale alle esigenze della Polizia di Stato. La Cisla di Arezzo dopo il plauso all'attività del personale della Polizia Penitenziaria di Arezzo ritiene indispensabili alcune precisazioni riguardo le dichiarazioni del garante regionale dei detenuti della Toscana, l'Avvocato Giuseppe Fanfani. I lavori al carcere di San Benedetto, si legge nella nota, vanno avanti da anni per problematiche dovute alle varie ditte che si sono avvicendate per fallimento e che hanno fatto perdere tempo prezioso. Una precisazione che arriva dal sindacato riguarda anche i numeri del personale che opera su Arezzo e le condizioni delle porte delle celle. L'organico amministrativo addetto alla sicurezza conta 32 unità, la metà è impegnato in compiti di presidio della sicurezza, mentre il nucleo scorte, dice ancora il sindacato, è anch'esso sottodimensionato. Chiediamo allora al garante, l'Avvocato Fanfani, di voler avviare un confronto con la nostra organizzazione sindacale. La Fondazione Arezzo Comunità attira e stila il primo bilancio di questo anno appunto di attività. Era stata istituita nel febbraio del 2022. La messa in sicurezza di alcune aule scolastiche perché possano essere adeguate per accogliere bambini non udenti fino al polo delle economie immateriali per tenere insieme la formazione, il lavoro e le economie legate alla cultura, al turismo e ai servizi alla persona. Iniziative rivolte alla promozione e soprattutto al supporto delle piccole associazioni che attraverso la Fondazione godono di professionisti gratuitamente perché possano loro dare servizi e non preoccuparsi della burocrazia. Trenta pagine per raccontare i primi mesi di attività. La Fondazione Arezzo Comunità presenta il report annuale, una pubblicazione in cui si ripercorre sinteticamente il lavoro fatto da febbraio 2022. Una realtà che unisce pubblico e privato nell'ambito dei servizi sociali. Io spero che siano passi numerosi più che grandi perché ogni passo in questo settore è importante. Noi siamo rispetto alle altre due fondazioni gemelle diversa perché siamo una fondazione che non crea eventi ma crea risposte puntuali, silenziose, pragmatiche. Il sito è già operativo, richiama tutte le associazioni, le pagine social e una disponibilità a essere appunto a loro servizio proprio perché possano essere conosciute dalle campagne 5x1000 fino al supporto a potersi raccontare. È una realtà di servizio questa a chi dà servizi. A noi piace che il volontariato si pensi libero, si pensi indipendente e non sia preoccupato di fronte alle sfide del domani che sono sfide di burocrazia, sfide di mancanza di volontari e quindi anche una forte azione con le scuole di promozione del valore del volontariato e sfide che permettono di mettere i servizi in filiera quindi fare tutti la propria parte in una però idea generale di comunità. Il ricorso sul caso di Francesco Macri è un grave errore da parte del Comune di Arezzo sono soldi pubblici spesi inutilmente ad affermarlo. In una nota ufficiale è il Partito Democratico, il ricorso al Consiglio di Stato scrive contro la sentenza del Tar del Lazio sulla illegittimità della designazione di Francesco Macri a presidente di Estra, viste anche le richieste di condanna proprio del PM, dice il PD, lo troviamo assolutamente inutile. C'è stata la decisione da parte di Anac ribadita successivamente dalla sentenza del Tar, i soldi dei cittadini, afferma il partito che il Comune sta spendendo senza avere la benché minima possibilità di vedere ribaltata la decisione, vanno utilizzati in maniera decisamente migliore. Siamo alla pagina dello spettacolo, iniziamo con questo primo servizio che ha visto arrivare nel nostro territorio Ottavia Piccolo. Ore 9, colazione, secondo problema, mangiare. Non ce n'è, ma qui otto mesi l'anno fa un freddo cane e se non mangi svieni. Ottavia Piccolo, in donna, non rieducabile, a Lucignano un piccolo grande caso della scena teatrale italiana firmato da Officine della Cultura e programmato nei teatri italiani stagione dopo stagione, ma ora più che mai attuale. Scompaiono, così all'improvviso. I militari russi li caricano sui camion, non se ne sa più niente. Comincia la ricerca, domandare, chiedere, pagare. Scritto da Stefano Massini e diretto da Silvano Piccardi è l'adattamento in forma teatrale dei brani autobiografici e degli articoli della giornalista russa trovata morta il 7 ottobre 2006 nell'androne della sua casa, uccisa da quattro colpi di arma da fuoco. Anapolit Koskaya, la giornalista russa uccisa nel 2006, è un simbolo della libertà d'espressione, della libertà, la libertà in generale. E quindi con la festa della Toscana aveva proprio a che fare. Qui parliamo di diritti, il diritto di dire quello che si pensa è sempre la cosa più importante. Quindi, che dire, questo nostro lavoro che portiamo in giro ormai da 15 anni racconta questo, che vogliamo essere liberi, liberi di parlare, di scrivere e di dire quello che pensiamo. E non cammino in Cecenia con il passamontagna nero fisso sul viso, come fanno le truppe russe per un motivo che ignoriamo. E adesso invece parliamo di moda, ma non solo, anche solidarietà, perché a Pitti Bimbo sono tornate le sfilate in presenza e allora il brand Tutto Aretino Monnalisa ha incantato la platea della Fortezza d'Abbasso, ma ha anche annunciato tante iniziative di solidarietà legate all'attività della fondazione che porta il nome proprio della S.P.A. L'emozione è tanta, perché in una sfilata c'è sempre l'emozione, perché comunque è un evento importante dove lavorano tantissime persone, dove veramente si sente l'unione degli spiriti. Pitti Bimbo 96, che si è aperto alla Fortezza d'Abbasso lo scorso 17 gennaio, è tornato ad ospitare le sfilate in presenza dopo lo stop di due anni dovuto alla pandemia. Il brand Monnalisa, con il cuore pulsante ad Arezzo ed oltre 60 negozi sparsi nel mondo, torna così ad incantare la platea della Fortezza d'Abbasso con una collezione impreziosita da una modella d'eccezione, Virginia Bocelli. Molto bella, molto semplice, molto educata, come lo è tutta la famiglia Bocelli, che noi abbiamo avuto la fortuna di essere loro ospiti, di averli conosciuti tutti, anche la signora Bocelli, la mamma di Andrea. È veramente, devo dire, una famiglia speciale. Con loro trovo molte cose in comune, perché noi cerchiamo di organizzarci per fare welfare e tante cose belle, e loro lo stesso sono bravissimi in questo. Quindi penso che insieme stiamo cercando di trovare una strada per unire le nostre forze. In presa e cuore, la fondazione porta il nome della SPA, Monnalisa, e sono già tanti i progetti realizzati, altri sono in cantiere. Per questa sfilata anche una collaborazione con un istituto del Valdarno Aretino. È insieme alla SPA, perché unire il sociale a un'azienda che guarda il futuro, che è presente nel mondo, in 62 paesi, sia un modo vero per produrre articoli da bambini. La fondazione appunto sta continuando questi progetti di solidarietà abbastanza importanti poi sul territorio, e sempre attraverso la formula dei nostri Temporary Charity Shop, dove praticamente andiamo a reinserire prodotti delle passate collezioni per sostenere un progetto specifico di solidarietà. Al momento ne abbiamo sette, l'ultimo che abbiamo aperto è a Milano, e l'obiettivo principale è sempre legato al mondo della disabilità. Ora, in questa giornata di oggi, abbiamo anche la presenza, infatti, di una decina dei nostri volontari, che hanno così la possibilità anche di vedere proprio la spilata della collezione dell'azienda Mona Lisa. Questa è anche un po' la vostra mission, quello di unire il sociale comunque con il business. È sempre stato anche prima ancora di occuparmi personalmente della fondazione, credo che sia sempre stato in noi, perché bisogna pensare che siamo anche fortunati, e quindi se sei fortunato cerchiamo di aiutare anche chi è meno fortunato. Siamo allo sport, ma prima di parlare di note calcistiche, c'è una ordinanza sindacale da parte del Comune di Arezzo che riguarda proprio la sicurezza in vista del derby Arezzo-San Giovannese, in programma per domani ad Arezzo. Dalle 11 alle 20 i titolari di esercizi di somministrazione e commerciali, i cui locali sono situati nel raggio di 500 metri dallo stadio, non possono somministrare per asporto o vendita bevande e alimenti che abbiano recipienti di vetro e lattine. È inoltre vietato nelle stesse ore usare o portare analoghi contenitori al di fuori delle aree, formalmente di perdinenza dei pubblici esercizi. C'è indubbiamente insomma una tensione alta rispetto appunto alla sicurezza negli stadi, in questo caso quello di Arezzo. E adesso invece veniamo alle note più calcistiche appunto alla vigilia di questo derby Arezzo-San Giovannese. Sentiamo le parole di Indiani. Siamo con mister Paolo Indiani alla vigilia di questo derby. Sarà una partita difficile anche perché abbiamo davanti un avversario che sta attraversando un ottimo momento. Sì, difficile poi che verrà qui libero di testa, perché con la vittoria che hanno fatto domani a Livorno sicuramente il problema, diciamo, play-out sia un po' attenuato, sicuramente che verranno liberi anche dal punto di vista. Siccome hanno delle qualità tecniche notevole, sicuramente le sfrutteranno. È difficile, è difficile poi anche perché in derby eccetera eccetera. Ma comunque tutte le partite sono difficili. Non credo, ecco, per chiarirsi che sia più difficile di quelle, che abbiamo fatto domenica scorsa. La sua squadra contro le grandi ha sempre fatto bene. Passi falsi sono arrivati proprio contro squadre più deboli. Sì, sappiamo tutti che il calcio nella partita singola ci sta tutto il contrario di tutto. È chiaro che abbiamo fatto meno bene, sicuramente difeso da noi, sicuramente, ma anche agli avversari che in quel giorno lì hanno fatto molto, molto, molto bene. Però è ovvio che se vuoi raggiungere l'obiettivo e tutti ci auguriamo, dobbiamo vedere il giorno di ritorno, di eliminare quelle partite in cui abbiamo lasciato dei punti che sulla carta magari non dovevamo lasciare. Ha intenzione di cambiare qualcosa oppure confermerà l'undici che ha iniziato e poi ha vinto in campo contro il Gavorrano? Ma di solito non lo facciamo. È che è difficile che rigiochi proprio gli stessi partire a distanza di sette giorni. Però può anche succedere. Non è detto che non possa succedere. Non è che ci basiamo sui risultati della partita precedente per decidere quella è la prossima. Lei ha parlato di San Giovannese libera di testa. Ma pensa che questo libero di testa voglia dire che venga a giocarsi la partita o farà una partita attendistica? Ma all'andata hanno cercato di giocarsela e le caratteristiche della squadra lo possano fare. Però indubbiamente se ha la seconda miglior difesa del campionato dopo noi evidentemente sono molto bravi anche a difendersi. Vedremo. È tutto per questa edizione della nostra cronaca rettina. Io vi lascio con i nostri programmi e non perdetevi la puntata consueta del venerdì di Bobo 7 subito dopo il nostro telegiornale condotta da Massimo Gianni. Grazie per l'attenzione e arrivederci.